Operavano in Italia ma avevano sede all'estero, così secondo i finanzieri erano riusciti a non versare le dovute imposte nel nostro paese. A scoprire delle organizzazioni ritenute occulte dagli inquirenti sono stati proprio gli uomini della Guardia di Finanza di Arezzo. Dieci le persone denunciate anche per aver percepito indebitamente, secondo le indagini, l'assegno di disoccupazione e il reddito di cittadinanza. Una modalità operativa, spiegano i finanzieri, che con l'affermarsi della Digital Economy ha conosciuto una notevole diffusione. Consiste nell'occultare al fisco una struttura economica permanente organizzata, situata fisicamente in Italia ma facente capo ad un soggetto economico estero. Nel primo caso la società individuata aveva infatti sede in un paese estero, offriva tramite una piattaforma online servizi di intermediazione per locazioni turistiche. Oltre 2.000 le strutture gestite in buona parte in Toscana. Nel secondo caso l'organizzazione, pur riconducibile ad una società estera, aveva assunto la veste di ramo d'azienda nel nostro paese. Gli inquirenti in questo caso hanno contestato non solo una rilevante evasione fiscale, ma anche violazioni alla normativa sul lavoro. Si parla di centinaia di rapporti di lavoro ritenuti irregolari, tra questi appunto coloro che percepivano anche assegno di disoccupazione e reddito di cittadinanza. Le organizzazioni stanno procedendo a versare allo Stato le somme dovute.